Istanbul team, coming from Perafainart, il brano che sentiamo sarà Murcian, è un brano, è una specie di ninna nanna praticamente. No, 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 what is this? What? Adesso quindi c'è il concerto per trombone, con Ebro Kennington, coming from Perafainart Institute, I will introduce to you Ebro Kennington, please come. Dalla varietta del centocinquantesimo, l'eleganza... Dicevo che erano diversi uno dall'altro, caratteristiche diverse. Perfetto, meno male. Attitudini diverse. Pensi se l'aveva lei non va niente. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Un momento ancora di un artista turco.